Questo è un cavallo di 27 anni, quindi molto anziano, con una patologia neurodegenerativa, la PPID, Pituitary Parts Intermediate Dysfunction, con lesioni cerebrali identiche al morbo di Parkinson. È una patologia che si manifesta con crescita del pelo, cattivo stato generale e nel 6% dei casi può dare cecità. Come in ogni patologia neurodegenerativa, l'età è il fattore di rischio primario e la progressione dei sintomi avviene lentamente. Questo soggetto aveva già una vecchia cataratta all'occhio sinistro, ma ora ha perso la vista anche nell'altro occhio. In questo caso è stata fatta un'unica inoculazione endovenosa con le cellule staminali del sangue e il cavallo, dopo 40 giorni, ha recuperato la vista. Dopo 100 giorni sembra un cavallo ringiovanito di 10 anni e si muove da fare invidia a molti cavalli ancora in attività sportiva. Le cellule staminali del sangue hanno curato una malattia neurodegenerativa con una sola inoculazione endovenosa. Grazie per la visione! Grazie per la visione!